Primo giorno di scuola, se così si può chiamare qui al Paratrento per la Trentino Volley, pronta per questa stagione 2013-2014 che la vedrà ancora una volta protagonista con tanti obiettivi come ormai è abitudine. Per questa squadra c'è stato l'incontro con i tifosi, questa mattina una prima seduta di pesi e poi appunto l'incontro pomeridiano con i tifosi. La presentazione della squadra erano assenti il bulgaro Sokolov impegnato con la nazionale e anche ovviamente gli azzurri. Però gli altri c'erano tutti, comprese anche le novità, i due stranieri, ovvero il palleggiatore Sucso e lo schiacciatore Ferreira. E poi anche tutti gli altri ragazzi, soprattutto i giovani, perché di giovani parleremo per questa stagione, saranno tanti quelli che giocheranno con la Trentino Volley che spera di stupire, di stupire il proprio pubblico. Come detto sono tanti gli obiettivi ma lo spirito è rimasto lo stesso, quello di andare in campo e vendere cara la pelle. Sentiamo le interviste raccolte proprio al termine della presentazione. Mi aspetto tanto da tutti, da chi era qua prima, da chi giocava, da chi non giocava, da chi è arrivato. Io non posso aspettarmi solo qualcosa di buono da qualcuno, ho bisogno veramente di tutti, perché in questa squadra saranno utili tutti. Tra l'altro in molti ruoli non c'è troppa differenza tra i vari giocatori, questo vuol dire che tanti avranno la possibilità di giocare e dovranno dimostrarmi di meritare il posto da titolare ogni partita. La cosa migliore che possiamo fare è di giocare forte e migliore possibile tutte le partite. La pressione c'è sempre, perché sai, devi vincere, noi giochiamo per vincere, non è che giochiamo per arrivare il punti 20 o il punti 15, sai, da ultima squadra a prima squadra in Italia, anche il mondo, giochi per vincere, se no è meglio andare a casa. Mi sento pronto e arrivo qua con molta voglia di lavorare tutti i giorni e penso che con questa squadra io posso crescere molto e fare grandi partite e grandi risultati qua in Trento.